Con Piero Grasso abbiamo lanciato la proposta Liberi e Uguali per una sinistra dalla parte del lavoro, della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale. Nelle prossime settimane saremo in tutta Italia in mille assemblee per discuterla con tutti coloro che vogliono dare una mano. Il segretario del PD continua a rimuovere i dati di realtà, non vuole accettare un'evidenza. Il Partito Democratico ha perso larga parte di quel popolo che doveva rappresentare. Il Liberi e Uguali nasce in un percorso plurale, guidato da Grasso, per ridare rappresentanza al lavoro, perché il PD purtroppo rappresenta gli interessi più forti. Siamo liberi da un'agenda liberista che ha colpito il lavoro in questi anni e non solo negli anni di Renzi. E siamo uguali nel senso che tutti vogliamo contribuire a una svolta per ridare dignità al lavoro. Nasciamo liberi e uguali per ridare dignità al lavoro. Il Partito Democratico sta da un'altra parte e noi con questa proposta facciamo argine alle destre e agli avventuristi. Esattamente il contrario di quello che vorrebbero dire. In questo caso, uniti col PD, si perde. Esattamente il contrario di quello che racconta il Partito Democratico. Grazie.